Allora siamo tornati in diretta da Zaffer Anetnea per il canale La Svolta Sicilia Eventi 2.0 Abbiamo in questo momento in piazza Guarango live from Peru che sta omaggiando la cittadinanza con queste splendide musiche latinoamericane Adesso andiamo a sentire un po' di musica live proprio da Guarango La Svolta Sicilia 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 La Svolta Sicilia